Tutto pronto per il derbissimo di domani, palla 2 ore 18, palla Ternogas tra Unibasket, Amatori, Pescara e Europa, Ovini, Pallacanestro, Chieti. Derby dalle mille emozioni, previsto il pubblico delle grandi occasioni, oltre 2000 spettatori, 800 arriveranno da Chieti e ci sarà la diretta televisiva su Rete8 Sport. Roster al completo, coach Stefano Raiola ha recuperato Micevic e Carpanzano, nessun problema per Piero Cohen che ha potuto inserire con più continuità l'ultimo arrivato Franco Migliori. Che derby sarà? Lo abbiamo chiesto ai due presidenti, Carlo Di Fabio e Gabriele Marchesani. Credo che siano due squadre diverse, costruite in maniera diversa, io credo che il nostro gruppo abbia qualcosa in più, mi aspetto un pubblico caloroso che trascini i ragazzi a una vittoria importante. Come ha vissuto questa settimana la sua squadra, presidente? Come stanno i ragazzi? Una settimana tranquilla, abbiamo pensato a recuperare gli influenzati, settimane di lavoro tipo, niente di particolare. Inizia un ciclo, è già iniziato un ciclo di partite importanti, si arriverà la prima settimana di marzo alla final di Coppa Italia, quindi tutte le settimane saranno molto impegnative e dure di lavoro. Presidente, com'è stata la settimana di avvicinamento della sua squadra? Come stanno i ragazzi? Molto tranquilla, i ragazzi si stanno allenando bene sotto la guida di Piero Cohen, poi con l'arrivo di Franco Migliori il gruppo si è subito integrato e quindi stanno lavorando molto bene e con molta serenità. Che vincerà Chieti? Vincerà Chieti perché dobbiamo allungare la striscia positiva, soprattutto togliendo la partita intermedia di Sansevero, con Piero Cohen abbiamo avuto il piacere di vincere sei volte su sette e quindi con questa cerchiamo di arrivare a sette su otto e poi allungare chiaramente il periodo di forma dei ragazzi. Palla 2 domani ore 18, Pala a Terno Gas di Pescara, diretta televisiva in esclusiva su Rete8 Sport a partire dalle 17.55.